Questo è quello che passa il convento. Magna. Non mi piace. Davide. Ma guardi un po'. Vogliamo andare a mangiare del grande te? Sì. Andiamo. Uss, soviette, forchetta, sa. Porti per tutti. Tonsi e te magna. Porti e si deve vedere. Con tanti bambini che muoiono di fame. Questo non mi piace. Che si deve vedere? Nessuno può immaginare un bambino così privo di riconoscenza. Non ci si crederebbe che me lo sono levato dalla bocca, quel caffellato. All'orfanatrofio saresti stato come un pasciato. Ma non hai voluto. Peggio per te. Tuo padre era affidato a me. Ma chi ti conosce? Te sei parente mio? Hai preso la purga? Hai preso? Stai a dieta, no? So stato tante volte a dieta io, senza prendere la purga. Questa è la vita, caro mio. Se stavi all'orfanatrofio? Ma non ci sei voluto stare all'orfanatrofio? Già ti maccherò? Svegliare! Il formaggio. Allarga, amanti, spezza il formaggio. Appositi. Che bel piacere, che bel piacere, che bel piacere. La 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 Per un barriere Di qualità, di qualità Ah, bello figuro, bravo, bravissimo, bravo La 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 Oddio, ma Gigi Che ti è successo? Che hai fatto? Niente Ma come niente? Che ti senti? Qua, alla gola, che ti senti? Ti senti bene? Si Ma tuo padre, non sai che c'è sto vocione? Non ci sta mai Non ci senti mai E la gente? Nessuno ti ha mai sentito cantare? Io non canto mai Non le conosco le canzoni A casa non c'abbiamo la radio Ma Gigi, ma ti senti bene? Si, solo che c'ho fame C'hai fame? Bello, 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 bello Tiè, tiè, mangia caldo Te lo dà al suo baldo, vedi? Bello, vedi? Magna Perché non mi ha detto che c'hai sto vocione? Sei affezionato al suo baldo? Sei affezionato? Io ho bene Hoi là Che di grazie? Che di grazie? Non è fenomeno, non è fenomeno. Non è fenomeno, non è fenomeno.